Buonasera a tutti, sono Marco Guscio, il delegato dell'Aeroclub per il sud della Svizzera e a nome dell'Aeroclub vi do il più caloroso benvenuto e il più cordiale saluto a questa nostra serata informativa tramite web. Prima di dare la parola a Mario Agustoni che sarà il nostro relatore e come sapete ci presenterà l'attuale novità in seno alla riga per quel che concerne i voli a basso livello in condizioni strumentali, due parole di introduzione e di informazione del programma odierno. Quindi alla fine ancora due minuti prenderò la parola semplicemente per darvi una piccola introduzione o informazione preventiva su un programma dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile relativo sempre un po' per quel che concerne gli spazi aerei ad una sensibilizzazione dei piloti per quanto concerne la violazione degli spazi aerei. Questo lo vedremo alla fine e ancora un piccolo input viene dalla seduta odierna del comitato centrale dell'Aeroclub che abbiamo tenuto oggi a Lucerna e come sapete il presidente centrale e anche consigliere nazionale e allora così un po' parlando della situazione dell'aviazione in Svizzera mi diceva sai Marco io avevo introdotto un po' prima quanto sta un po' avvenendo in Ticino dicendo che l'altro giorno c'è stata un'interpellanza a livello di Gran Consiglio un po' anche un po' diciamo sollicitata dalle attività dall'Alba dell'Associazione dell'Aeroporto di Locarno per un po' sollicitare lo smuore delle acque per quel che concerne la ricostruzione dell'aerodromo eccetera eccetera e questa mattina per chi avrà letto la stampa ce n'è un'altra che più o meno va in questa direzione e allora il consigliere nazionale Mattias Jauslin mi ha detto sai a livello di consiglio federale ci sono quattro interrogazioni depositate con il tema aviazione di queste quattro tre sono contro l'aviazione quindi una addirittura dei giovani verdi vorrebbe praticamente impedire qualsiasi attività di volo in Svizzera questa è la più radicale ma anche le altre logicamente non vanno proprio nella nostra direzione e ce n'è una che invece è comunque a nostro favore che proviene dal Ticino e di fatti è verrà data una risposta nei prossimi giorni e quella l'interrogazione penso che si chiami così del consigliere nazionale Ragazzi che chiede se il BATS o più che altro l'ufficio federale dell'ambiente ha finalmente intenzione di rilasciare questo progetto per il mini allungamento vi ricordo che si parla di poche decine di metri della pista di Locarno e che da anni attende quindi perlomeno una è a favore l'aviazione ma appunto per concludere e prima di passare la parola questa da un po da un po la sensazione che comunque non siamo veramente nel momento migliore della nostra storia indipendentemente da tutto quanto è avvenuto a livello di pandemie e quant'altro purtroppo anche le tendenze a livello politico e ci mancano forse anche poi i politici che invece giocano un po dalla nostra vanno un po in questa direzione non parliamo poi della scelta del nuovo calcio di livello da combattimento che come sapete è tutt'altro che terminata ok ma questo è solo un piccolo aperitivo io non vi faccio perdere ulteriore tempo e passo ben volentieri la parola a mario agostoni che saluto a tema mario ciao marco grazie mille saluto tutti calorosamente vi ringrazio ringrazio soprattutto l'aero club che ci permette di presentare questo progetto e approfitto brevemente per presentarmi mi chiamo mario costone sono principalmente un pilota operativo che opera sulle basi di montagna dunque con la busta da diverso tempo mi occupo anche dell'istruzione e diciamo è seguito dall'inizio la fase introduttiva dove la rega ha deciso di iniziare un po questa avventura nel volo strumentale dunque praticamente da dieci anni e praticamente tutti i progetti che adesso sono inerenti ad avvicinamenti decolli oppure queste rotte così come l'istruzione anche dei piloti passa diciamo anche un po da me dunque l'obiettivo che abbiamo un po con questa serata è di darvi di darvi un po conoscenza su quanto stiamo facendo e magari anche sensibilizzarvi per alcuni aspetti che chiaramente possono 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 interessare anche voi visto che comunque come dice già il nome ci si trova ad avere degli elicotteri che volano a bassa quota in condizioni strumentali e questo sicuramente crea o può creare alcune alcuni problemi siamo in pochi ma va benissimo approfitto per dirvi che se avete domande di alzare la mano ci interrompiamo preferisco rispondere diciamo subito alla domanda e poi possiamo proseguire così che non ci sia la fine magari non ci si ricorda più cosa cosa si voleva chiedere brevemente su quanto vi racconterò allora lo scopo perché abbiamo abbiamo deciso di fare questo progetto assieme all'esercito cos'è attualmente già in in servizio e cos'è l'idea finale la visione finale vi darò un po di numeri non tantissimi ma su cosa già viene fatto e anche un po come è strutturato questo questo low fly network e anche questi pins questi point in space che poi spiegherò più tardi la parte dell'air traffic control l'etc che chiaramente ha un ruolo abbastanza primario e alla fine un po come possiamo andare d'accordo per metterlo così in parole semplici tra traffici vfa e nai fa allora principalmente lo scopo dell'offline network è quello di permettere il collegamento più o meno di tutte le parti della svizzera anche in casa di cattivo tempo come tutti sanno la centralizzazione anche delle cure negli ospedali principali fa sì che molto più spesso di quanto si faceva una volta vengono trasferimenti da un ospedale secondario verso un centro noi dal ticino che veramente siamo molto coinvolti perché purtroppo abbiamo alcune categorie di diciamo di trattamenti che in ticino non vengono non vengono fatti detto ciò anche l'esercito si è reso conto che non era in grado diciamo col trasporto aereo con l'elicottero di raggiungere in qualsiasi tempo tutte le parti della svizzera cosa che chiaramente da un punto di vista strategico anche solo di livello di protezione civile non è proprio quello che ci si aspetta da lì è nato questo questo progetto anche dal fatto che più o meno all'anno contiamo circa 600 missioni di soccorso che vengono annullate per condizioni di meteo sfavorevole queste rotte sono a bassa quota perché come sapete l'elicottero così come diciamo gli aerei di piccola dimensioni non sono proprio portati per volare all'interno di condizioni di ghiaccio prima di tutto e poi anche perché comunque sopra una certa quota poi iniziano tutte queste problematiche di ossigeno e di performance e dunque l'obiettivo è di comunque restare all'interno diciamo del fly level 130 dove diciamo sulle alpi non dovremmo incontrare altro traffico per poter restare così bassi abbiamo bisogno di diciamo di precisioni di navigazione che vanno un po' oltre a quella che è il gps di base dunque un po' di tempo fa era una cosa futuristica adesso anche l'esbas diciamo la augmented diciamo la precisione aumentata data da questo da questo esbas è una cosa che si trova anche nei normali aerei e non è più una cosa così diciamo nuova però permette chiaramente di fare avvicinamenti con una precisione simile a una ILS e permette poi anche sulle rotte di volare con una precisione di 0.3 miglia nautica ultimamente questa diciamo una notizia di quest'anno di quest'estate la confederazione ha deciso di prendere mano anche lei a questo progetto di farne parte e di prenderlo diciamo a suo carico se prima era l'esercito e la rega che finanziavano principalmente tutto una decisione politica unanime ha scelto di fare per questo progetto una cosa nazionale dunque diventerà di valore nazionale in questo motivo la confederazione diciamo si assumerà i costi di quanto già un po è stato fatto e soprattutto di quanto deve avvenire questo ha dato una spinta ovviamente a tutte le cose che stavano un po lì sul tavolo da da tempo e si è deciso che il gruppo diciamo dei partecipanti che possono poi accedere a questo lo fly network è ristretto ed è ristretto in pratica agli enti di soccorso alla polizia alla protezione civile e all'esercito non saranno delle rotte delle procedure che potranno essere usate diciamo dall'aviazione civile cosa è già attualmente in operazione allora come vedete abbiamo ci siamo basati principalmente su due dorsali dunque una che collega lugano a lucerna che poi va a intersecarsi con la con la rotta del nord delle alpi diciamo dell'alto piano che da san gallo collega praticamente ginevra ci arriva fino al dio arti sempre su questa dorsale soprattutto al nord delle albi e soprattutto nella parte tedesca diciamo nella zona della fir di izurigo dunque da verna verso est abbiamo iniziato a collegare i punti diciamo più facili dal punto di vista anche della coordinazione dunque si è partiti principalmente con un avvicinamento a berna sull'ospedale di berna che era il primo avvicinamento in europa gps su un ospedale perché era all'interno della ctr di berna poi sono seguiti emmen grazie alla collaborazione ovviamente con l'esercito e poi diciamo alla spicciolata sono arrivati in zurigo l'ospedale principale di zurigo con un avvicinamento sul lago da sud l'ospedale di vinterthur l'ospedale di noteville che è forse il primo avvicinamento fuori dalle con dalle zone controllate non fuori da una ctr e lucarno lucarno forse alcuni l'hanno l'hanno saputo abbiamo in collaborazione con l'esercito implementato una procedura di decollo e di avvicinamento gps che è collegata a questo network partendo dall'arbedo e che ci permette praticamente di collegare il ticino a questa rotta tramite lab diciamo di locarno attualmente sono già sulla cartina c'è arao e sangallo che sono in fase di certificazione all'ufficio aereo dovrebbero essere operative entro la fine dell'anno facendo un passo oltre vedendo a cosa si vuole raggiunge chiaramente non si vuole lasciare nessuno scoperto dunque in svizzera sono stati definiti 12 trauma sente dunque ospedale principali lugano e uno di questi gli altri si trovano più o meno tutti al nord e in più è stata data diciamo la rega e all'esercito facoltà di decidere assieme ai cantoni quali ospedali sono di una certa rilevanza e dunque devono essere collegati oltre a questi la rega visto che ha comunque cominciato per conto suo questo progetto ha come visioni di collegare anche tutte le sue basi perché se l'elicottero non può decollare dalla base chiaramente non può nemmeno raggiungere l'ospedale dunque qui vedete praticamente che il disegno finale comprende veramente tanti tanti avvicinamenti ci saranno delle rotte aggiuntive alcune sono ancora tratteggiate se ne vede per esempio una tra samadene lugano che è comunque molto importante che coinvolge anche i nostri vicini di casa dunque siamo in trattative con con roma abbastanza spesso non abbiamo dimenticato come detto anche la francia l'austria e la germania ci sono già delle piccole rotte nella zona di strasburgo per quello che riguarda la francia ci sono anche già dei contatti per collegare la rotta diciamo tra torino e venizia c'è una comunità un po attorno a tutto questo che si che si trova regolarmente chi fa parte un po di questi progetti ogni volta che si che si che si inizia un po un progetto di questi facciamo l'esempio di locarno si inizia coinvolgendo un po tutto quello che sta attorno all'aeroporto tutti tutti gli operatori la tarmac l'eurolocar o il paracentro l'aeroporto stesso i militari e si ci si siede un attimo assieme per capire cosa potrebbe essere d'impatto si fanno questi safety assessment si si propone come rega diciamo noi ci proponiamo una modalità d'avvicinamento e poi tutti assieme la giriamo la stiriamo finché arriviamo più o meno a un concetto finale e poi questo viene ovviamente discusso all'interno di un gruppo di lavoro a cui fanno parte l'ufficio aereo sky guide l'esercito in rega dove ci troviamo regolarmente e abbiamo questi pacchetti che portiamo avanti fino a poi alla certificazione finale attualmente sul tavolo ci sono molti altri progetti di questa di questa slide che vedete che sono in una o nell'altra fase per poi arrivare al diciamo l'obiettivo finale l'obiettivo finale dovrebbe essere raggiunto nel 24 dovrebbe lo dico perché chiaramente questi progetti hanno in sé delle delle varianti che non spesso sono di così facile facile elaborazione le risorse poi anche per delle persone non sono sempre lì per perseguire in modo continuato tutto dunque ogni tanto ci sono delle fasi di attesa però come detto il 24 è una data abbastanza importante perché a quel punto lì passo magari nella prossima anche i nostri colleghi di sky guide avranno un certo update un certo un aumento delle loro capacità per quel che riguarda il delta delta un po questo questa unit che che fa un po da collegamento fra lì e fare che è stata un po scelta per gestire o per coordinare il offline network veramente il delta degli orari di apertura che sono 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 compatibili con con le attività di soccorso che sono h24 delta diciamo le sette di sera chiude torna alle sette di mattia detto per questo anche sky guide si sta diciamo si sta un po preparando e nel 24 dovrebbe essere in grado penso alla fine del 24 dovrebbe essere in grado a cambiare nome non voglio fare lo spoiler ma cambieranno di nome delta non si chiamerà più delta e dovrebbero essere attivi 24 ore su 24 almeno per gestire diciamo questo questo low fly network con tutti questi punti di avvicinamento e di decoll per questo non volendo e non dovendo nemmeno aspettare chiaramente fino al 24 siamo in una fase transitoria dove alcune volte operiamo con apc on e molto spesso lavoriamo invece con apc off dunque c'è un po una differenza nelle nostre procedure come per esempio a emmen dove emmen militare a weekend è chiuso a natale è chiuso ma noi possiamo comunque andarci oppure per il nostro cantone a lugano dopo una lunghissima trattativa sia con l'ufficio aereo con sky guide che anche con italia abbiamo ottenuto di poter utilizzare la igs di lugano e del procedure di decollo per 24 ore su 24 adesso ancora maggior ragione visto che purtroppo lugano ridotto le sue le sue diciamo ore di attività noi praticamente non siamo non siamo toccati dalla chiusura notturna possiamo operare a lugano con una procedura diciamo di coordinazione con milano possiamo decollare e ritornare in autonomo senza nessun controllore di ruolo appunto se noi proviamo poi a differenza tra una e l'altra se le mettiamo tutte assieme queste due cartine ci si rende conto che il problema è abbastanza evidente per quello che alcuni progetti chiaramente sono un po in in standby perché lo spazio aereo svizzero non è proprio dei più semplici in più ci sono anche le montagne in mezzo e ci mettiamo anche noi come rega e come esercito a voler creare una trentina di avvicinamenti a e fare in tutto questo in questo ambiente crea in alcuni punti dei dei contrasti e anche delle situazioni che non erano prevedibili magari 10 o 15 o magari 20 anni fa per esempio magari un esempio abbastanza facile la rotta per esempio tra locarno e lugano è stata costruita scusate tra lucerne lugano è stata costruita in modo da passare un po a fianco dalle varie tma passare un po a fianco dalle varie zone e in ticino se ben ricordo le glider sector sono non attraversano la leventina ma solo o a destra o a sinistra invece per esempio nei grigioni dove a breve faremo una rotta che collega diciamo zurigo a samadine poi samadine anche a locarno abbiamo dei glider sector che sono un po più vasti e come ben sapete in teoria in questi glider sector se attivi e far non può entrare base legale scritta e dunque anche dicendo che sì ma non c'è problema bisogna comunque cambiarla non è così semplice bisogna cambiarla in modo che non vada poi a ledere nessuno dei due noi riteniamo di che il servizio sia utile ma ovviamente anche anche chi fa volo a vela ha tutto il diritto di continuare a usare i suoi i suoi spazi diciamo o le sue distanze limitate e le eccezioni che vivono poi in queste in queste zone essendo attive diciamo dirego dal primo marzo al 31 ottobre dal sunrise al sunset questo crea un problema burocratico che bisogna che bisogna affrontare come lo affrontiamo un po non lo sappiamo ancora un po le teste si stanno cioè diciamo un po scaldando per riuscire ad arrivare poi a una soluzione che faccia contenti tutti e che sia possibilmente efficace l'idea di base che comunque anche se magari non vi sono tante attività in una zona magari remota come il giura o come come la valle dell'engadina bassa si cerchi di non tralasciare nessuno dunque l'obiettivo della rega anche assieme ai cantoni anche assieme all'esercito e adesso la confederazione di comunque collegare tutta la parte del ticino perché non sarebbe corretto lasciar via non so porontruì perché a porontruì magari la rega va 20 volte all'anno però ecco per questi 20 pazienti fa la differenza se ci andiamo o se non ci andiamo dunque si cerca veramente di fare in modo che ovunque ci sia una connessione poi come ben sapete non serve che ogni ospedale o ogni aeroporto sia collegato perché normalmente si riesce a sorvolare un po in BFR e poi si prende diciamo la prima entrata dell'autostrada e tali via poi si va in volo strumentale. Un po' di numeri e un po' di magari allora queste rotte sono basse dunque principalmente ci troviamo a volare in eco e molto spesso poi per la fase finale degli avvicinamenti o dei decolli siamo in golf. Vi sono queste mocca dunque minimo obstacle clearance altitude oppure la mea che è diciamo una quota ADC noi tendiamo a voler volare sulla mocca perché questa è poi quella che noi ci garantisce le migliori performance ma anche di non dover salire troppo in alto questo vuol dire che ci troviamo comunque nella stessa zona in cui volano tutti gli altri utenti diciamo del volo turistico o anche del volo normale lavorativo che avviene tutti i giorni. Molto spesso questi avvicinamenti si trovano poi alla fine in una CTR che però potrebbe anche non essere attiva dunque c'è questo CTR HX oppure oppure attivo non attivo. Praticamente tutte queste rotte sicuramente quelle alpine sono al di sotto delle minimum vector altitude dunque il radar ci vede ma in teoria non può fare un granché con noi. Come detto sono sono restricted per operatori diciamo soccorso polizia guardie di confine forze aeree e per avere un buon numero l'anno scorso abbiamo volato 584 missioni comunque voli in volo strumentale parte di esso magari solo però comunque calcolando che parlavamo di 600 voli o 600 missioni annullate si vede che quasi 600 le abbiamo volate alcune di queste potevano ovviamente essere volate anche in volo VFR però in questo modo abbiamo una buona una buona variante per non puoi dovere interrompere il volo metastraneo se mi sposto oltre vi faccio vedere un attimo com'è costruito non voglio andare troppo nel dettaglio però dovete immaginarvi che il design diciamo chi costruisce le rotte si basa su dei criteri stabiliti e dunque l'elicottero deve volare con una precisione di 0.3 che nel disegno è descritta un po male perché no è giusto 0.3 che non vuol dire che a 0.4 troviamo già la montagna i margini sono estremamente ampi dovete considerare che praticamente il corridoio totale che comprende tutta la sicurezza degli ostacoli che sono rappresentati diciamo con questi cerchi gialli non possono entrare in questi in queste zona primaria l'arancione o zona secondaria blu che dà un po la forma di una vasca da bagno la larghezza totale di questo corridoio è di 2,9 miglia praticamente noi le montagne tanto da vicino non le vediamo anche se si parla di low fly metro in quei due spezzoni di cartine vedete praticamente la le quote e le distanze della rotta alpina e anche un po la sua la sua traiettoria a sinistra in rosso sono le moca dunque sono le quote minime in cui poi nel disegnino c'è questo aereo elicottero in rosso lì è la quota minima che noi possiamo volare invece quella nera è la quota diciamo mea in cui sky guide quando è attiva dobbiamo volare adesso stiamo un po combattendo per riuscire sempre volare sulla moca perché anche se visto che siamo sotto il minimo vector altitude non c'è bisogno che ci che ci vedano ci sentono proprio per tutto il percorso però più o meno questa è la valle diciamo della royce sopra sopra airsfeld arrivando verso il lago dei quattro cantoni ci troviamo più o meno in questa zona delle montagne per avere un'idea diciamo che conosciamo sul gottardo la quota più alta di moca è 10.680 per chi si ricorda più o meno il gottardo credo che 7.000 piedi o 6.000 qualcosa non siamo proprio così vicini a batteri pins point in space departure arrival per darvi un'idea allora point in space è una procedura che praticamente viene disegnata attorno a un punto qualsiasi che non è legato a una pista invece si era abituati fino a poco tempo fa questo vuol dire che l'elicottero può partire da un ospedale per esempio di regole da un ospedale oppure una base fa uno spezzone in dfr senza aver bisogno di coordinare o controllare ostacoli dunque un dfr assolutamente normale con le regole del volo vfr finché raggiunge questo punto a una quota minima definita e da lì via praticamente si può immettere nelle nelle nuvole in considerazione a questo la procedura di decollo e per noi non molto critica dal punto di vista della della del conflitto diciamo con altri utenti perché partiamo in dfr e ci infiliamo nelle nuvole dove non ci aspettiamo ci sia nessuno il problema del decollo nasce magari se c'è una coltre di nebbia che poi a tutta un tratto noi spuntiamo fuori dalla nebbia e dunque a quel punto lì chiaramente bisogna guardarsi un attimo attorno per vedere che non ci sia che non ci sia qualcuno di solito questi punti distano da uno a due chilometri dall'ospedale o dalla base dipende un po da che da cosa c'è attorno se siamo sopra una città se ci sono ostacoli o altre cose come detto sono dei punti di entrata dunque si può usare diciamo per qualsiasi ragione io non devo essere per forse su quell'ospedale lì ma posso anche partire dall'autostrada xy dove ho fatto intervento per un incidente stradale scegliere il punto d'entrata più vicino in base alla meteo e infilarmi lì e poi proseguire poi lungo la rotta fino all'ospedale di destinazione alla stesso modo si parla poi di point in space approach dunque il point in space anche qui non va principalmente su una pista va proprio in un punto qualsiasi ne abbiamo alcuni su un lago per esempio interlaca nel lago di brienz ce n'è uno che scende più o meno dal bruni che arriva in mezzo al lago e poi da lì via si prosegue con un con un segmento vfr praticamente poi su qualsiasi destinazione che può essere raggiunta col volo col volo vfr in questo caso anche anche da parte del bazzle anche un po da parte nostra nascono un po più di un po più di dubbi riguardo al possibile conflitto perché in questo caso l'elicottero si trova in nuvola e primo poi esce ecco il primo poi è sempre un po critico perché se le minime sono veramente basse praticamente non ci aspettiamo traffico perché comunque il vfr quasi non permesso oppure le minime sono veramente troppo basse se invece è un po così così c'è un marginal a un certo punto noi nell'avvicinamento usciano ci troviamo veramente tra l'eco e il golf dove l'eco magari ancora delle distanze dalle nuvole da rispettare ma il golf poi diventa diventa un po più un po più critico dunque la sensibilizzazione che facciamo un po adesso è magari di capire attorno a certi ospedali attorno a certi punti sapere che in certe condizioni potrebbero esserci dei traffici che escono escono dalle nuvole molti di questi fortunatamente si trovano comunque in zone controllate attive o non attive dove la regola buona dice vuole che si sia sulla frequenza hx dunque noi poi comunichiamo le nostre intenzioni su questa frequenza e chi si trova all'interno di questa zona bene o male viene a sapere oppure anche noi veniamo a sapere che c'è che c'è altro altro traffico e possiamo agire di conseguenza questo è sicuramente il primo messaggio di mantenersi sempre su queste frequenze nelle zone limitrofe oppure addirittura all'interno di queste zone controllate ma non non attive adesso per vedere magari un po in immagine di cosa si sta parlando perché abbiamo parlato di minime questi sono due esempi dei point in space approach di Sangallo e di Lucerna quello di sinistra è Sangallo praticamente la minima Sangallo è 300 e rotti piedi sopra le case comunque se effettivamente la minima è quella normalmente lì non troviamo nessuno a Lucerna si scende nella zona di Littau diciamo venendo da Malters da ovest e l'ospedale risulta un po più lontano perché comunque attorniato da piccole colline dunque un avvicinamento proprio diretto sull'ospedale non era possibile e qui dobbiamo fare un piccolo un piccolo voletto segmento via far per raggiungerlo comunque molto vicino e anche qui la minima si parla di 300 340 piedi sono se non sbaglio dunque questa è un po l'immagine che il pilota si trova di fronte quando esce dalle nuove come detto potrebbe invece anche uscire prima non è tanto meglio però le stesse le stesse immagini diciamo le vediamo riprodotte sulle cartine questa diciamo non è la cartina completa solo la parte finale diciamo il segmento il proceed via far dove si vede in nero grassetto il punto di decisione decision altitude e poi in violetto praticamente questo segmento via far dove anche per il pilota seppur diciamo conosce di regola la zona magari qualche indicazione che di solito non si trova sulle cartine a e farma si trova appunto ostacoli linee dell'alta tensione uno schizzo diciamo della città perché poi dopo lui deve proseguire a vista è un po come la la taxi chart per per chi poi vola sugli aeroporti per sapere cosa fare una volta che si esce questo è un piccolo box che si trova all'interno della cartina a e farlo questa è un'immagine diciamo di un di un di un test effettuato sui sugli avvicinamenti di locarno chiaramente non dobbiamo fare tutto questo giro per fare un avvicinamento ma si vede per chi lo riconosce dall'alto in alto a sinistra a destra si scende praticamente sul low fly network da da faido verso biasca poi si prosegue verso arbedo ed arbedo in pratica si verso 7mila piedi si inizia a scendere sopra belinzona dove c'è la line up finale sull'avvicinamento che prosegue fino a circa sopra l'ufficio del marco la poesia e da lì poi si scende seguendo più o meno lo stesso assi di avvicinamento che usano i pc set leggermente disassato è un 9 gradi dunque molto ripido è il più ripido che l'elicottero può eseguire e arriviamo più o meno a qui abbastanza alto ma più o meno a mille piedi mille piedi suolo perché è un 9 gradi tanto più basso non si arriva la parte seguente poi è la riattaccata dunque verso il golfo diciamo di locarno si rientra sull'aeroporto e poi dopo ci sono degli altri spezzoni che non riguardano l'avvicinamento però in linea di massima all'interno di queste di queste quota per un po visualizzare dove si vola in ticino tra faido e tra faido e biasca sono circa 8.300 piedi di mocca e poi tra biasca e lodrino sono 7000 queste sono più o meno le quote che ci che ci concernono in ticino dal punto di vista come detto della della sky guide o dell'elfen in generale è un lavoro attualmente un cantiere aperto dunque ci sono molti piccoli step ancora che devono essere finiti e definiti per questi due anni diciamo che mancano è un lavoro molto intenso c'è buonissima collaborazione come appunto già ho già detto in precedenza tutti questi enti partecipano diciamo di comune accordo a questi incontri per arrivare a un progetto finale andiamo magari ad avvicinarci un po alla alla all'obiettivo di tutto questo è che anche da parte di sky guide chiaramente che cercano di fare del loro meglio sono confrontati con con anche un equipaggiamento che magari non è proprio dell'ultima generazione e queste procedure questo tipo di volo questo tipo di di volo strumentale non era previsto fino a un certo tempo dunque la coordinazione attualmente risulta abbastanza difficile e sul sull'offline network attualmente che è separato in settori per essere meglio coordinato può può esserci un traffico alla volta la sequenza attuale che se io decollo da locarno con un paziente verso zurigo nel tempo che io percorro questo questo low fly network non ci può essere nessun altro quando una volta che arrivo a zurigo può entrarci il prossimo non è un problema perché non è che c'è una casistica così elevata che siamo in giro con 30 elicotteri allo stesso momento sulla stessa rotta però anche sky guide è intenzionata a trovare delle soluzioni per magari su certi spezzoni di rotta per creare degli olden oppure per creare delle quote di incrocio che siano compatibili con l'operazione per aumentare questa cadenza non da ultimo la zona per esempio ticino è comunque coperta abbastanza bene dai radar ma andando poi verso i grigioni alle quote che vogliamo praticamente risultiamo quasi invisibili oppure non non contattabili dunque questo apre un mondo nuovo anche un po per sky guide che non hanno tutte le abilitazioni anche per gestire dei traffici che sono fuori radar che si sta un po lavorando per per colmare il gap che hanno e per uscire un po da questa comfort zone dove dove era tutto stabilito e adesso arriva qualcosa di nuovo che bisogna che bisogna un po ristrutturare attualmente è molto caotica sbagliato è molto abbastanza complicata la procedura perché bisogna telefonare bisogna riservare poi c'è piano di volo poi ogni tanto c'è dei tc ogni tanto no dunque anche dal punto di vista dei piloti c'è c'è un po affanno perché non è ancora quello che si vorrebbe e si sta cercando di limare di migliorare il tutto sperando poi di arrivare a una procedura molto più molto più fluida di base perché questo sicuramente spesso arriva come domanda allora in eco ma non solo in eco il traffico a ie far che diciamo non si trova nelle nuvole è confrontato con del traffico ie far che è presente per il tuo diritto di esserci e dunque non essendo noi nelle nuvole non abbiamo prettamente bisogno della procedura dunque vale il si and avoid se siamo bmc chiaramente non abbiamo nessun tipo di priorità per dover restare sulla rotta sull'avvicinamento ma dobbiamo essere in grado in ogni momento di deviare o di uscire temporaneamente dalla rotta per poi dopo riprenderla una volta una volta evitato una volta diciamo attraversato la zona di conflitto in questo senso noi siamo molto bene equipaggiati sui nostri ricordi fortunatamente siamo sia equipaggiati con floys siamo equipaggiati col ticas dunque se gli utenti che sono equipaggiati a bordo con transponder oppure con un floys lo attivano noi siamo molto in anticipo aware diciamo siamo a conoscenza che di fronte a noi nella nostra zona che stiamo per raggiungere si trova un traffico e questo ci permette di valutare in anticipo le opzioni per esempio in un avvicinamento se non riusciamo ad avere un contatto con questo traffico che gira diciamo attorno alla zona della nostra punto di decisione alla peggio facciamo un mist approach in modo da evitare poi di uscire dalle nuvole al momento sbagliato dunque se però non riusciamo a vedervi perché magari il sistema non è attivo oppure non è presente questo chiaramente ci toglie una di queste barriere principali per per avere una separazione una separazione tra questi due trafici abbiamo analizzato molto questa questo grafico anche per un po capire si vede diciamo il traffico via far descritto in rosso dove il principio quando le rotte gafor sono il segnalo non closed non ci aspettiamo non dovrebbe comunque esserci traffico via far diciamo in rotta magari attorno a qualche aeroporto sì ma sicuramente non attorno alle quote dove si trova l'offline bene roberto dimmi pure sì roberto ti dover tu sì ciao ciao mario ciao ciao ho una domanda su questa parte della separazione quindi lo scopo della serata è chiaro della sensibilizzazione però visto che il l'offline network pare che sia un po una ragnatela ma è previsto che venga pubblicato nella cartina uno cinquecentomila perché ad esempio la rotta che hai fatto vedere prima biasca arbedo mi è sembrato adesso a memoria di vederla piuttosto sulla destra della valle e voi la usate per entrate uscita corretto sì diciamo è corretto le rotte diciamo quella che tu hai vista tra arbedo e biasca e lei è l'aerovia principale dunque quella può darsi che in alcuni punti sia un po più a destra che a sinistra perché ormai deve 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 tenersi in modo da essere il più basso possibile ogni tanto sta a destra ogni tanto sta a sinistra anche segue tanto la regola del diciamo del volo via fare segue più la regola di stare il più distante possibili al centro diciamo del segmento ma l'interessante è tu sai se sarà pianificata una pubblicazione sulla cartina una cinquecentomila che non sia una cartina separata che sei qua che avere due pezzi chiaro chiaro allora sulla cartina cartacea onestamente non te lo so dire so che però le rotte allora le airway non parlo degli avvicinamenti per esempio sui vari skydemon o addirittura in altri sono già visibili ok dunque per esempio sullo skydemon oppure credo anche sul rocket route su altri diciamo applicazioni che digitali sono già visibili perché l'offline network diciamo la parte di autostrada è più o meno pubblicato più o meno poi è un po' complicato perché i waypoint non sono non sono marcati però vi è la rotta dunque la traiettoria della rotta è marcata su questo punto magari arrivo arrivo leggermente fra fra una slide dove poi praticamente concludo e spiego anche perché diciamo le ragioni attualmente che sono un po' dietro a queste a queste pubblicazioni sì o no perché è un tema abbastanza discusso all'interno di questi gruppi ti ringrazio va bene grazie grazie per la domanda appunto parlavamo di queste di questi colori gaffor che diciamo i traffici via far conoscono e anche ovviamente noi a efar dunque se io parto con un volo dove tutto è margine o tutto è closed nella maggior parte del mio volo sarò nelle nuvole e non mi aspetto diciamo un grande problema nelle nelle zone diciamo gialle difficolt oppure open mi aspetto invece di vedere di essere fuori dalle nuvole ci saranno molti e comunque anche diversi voli a efar perché attualmente incentiviamo i nostri piloti a seguirle queste rotte perché sono abbastanza efficaci non è che perdiamo tanto tempo a farle però se non le si fanno in volo a vista poi dopo quando fa bruit de pf bisogna avere veramente un po cioè un po più difficile cominciare direttamente col brutto dunque li invitiamo a volarle di notte di giorno in modo da acquisire anche un po di abitudine di mestichezza con tutto l'equipaggio soprattutto per quelli che sono a bordo che non sono piloti perché fino a lì hanno volato fuori dalle nuvole poi tutto è entrato di notte tra il gottardo si trovano dentro delle nuvole non a tutti proprio sono così abituati soprattutto i medici che diciamo di aviazione non sono non è proprio il loro mestiere troverete molti traffici e anche molti avvicinamenti fatti diciamo in ifr ma in dmc per per aumentare un po il training di tutti però la parte principale che 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 crea un po il problema problema il maggior rischio è la zona marginal dove chiaramente l'elicottero si trova molto spesso in imc però fa un po in and out entra esce da queste nuvole e nel marginal c'è comunque ancora possibilità di volare ma lo spazio disponibile tra le nuvole il terreno oppure a fianco delle nuvole non è più così elevato dunque anche il traffico via fardo un po tempo trovare il posto per volare allora quel punto li chiaramente riscontriamo forse la fase più critica dove siamo molto più attenti più attenti perché chiaramente il pilota ifr è agli occhi sullo strumento agli occhi sui sensori sa cosa vola sulla sua rotta e non ha altro da fare per modo di dire che guardare che davanti non salti fuori qualche ticas o qualche floys o qualche blind calls di un traffico che attraversa una zona di em mentre noi stiamo facendo l'avvicinamento dunque è molto pronto diciamo a reagire invece il traffico via far probabilmente non si aspetta e magari non è nemmeno equipaggiato con un ticas magari al floys magari anche il ticas però chiaramente è un po più difficile forse per lui aspettarsi o capire che c'è questo traffico quello che non abbiamo ancora pubblicato ma alcuni magari lo sanno già e sicuramente stiamo trovando un modo per pubblicarlo è che attorno ai pointing space che non sono all'interno di una zona di controllo viene usata la frequenza di 130 80 per fare dei blind calls che è la stessa frequenza che si usa già per i fog di parcio oppure per i per i per le decolli dei dei palloni aerostatici quando fanno un break o da un cloud break partendo sotto la coltre di nempia per salire sopra questa è già una frequenza che viene usata ma frequenza rega tra l'altro che però usa anche l'esercito per coordinare ed è accessibile questa credo che l'ufficio aereo sta valutando come e in che modo pubblicarla per non creare veramente bisogna fare 200 safety assessment per riuscire poi a capire che non sia che non abbia quasi un impatto negativo però questa è una frequenza che si può già tranquillamente ascoltare se si sa che si vola attorno a uno di questi punti dove potrebbe effettivamente esserci un avvicinamento l'ultima slide fa vedere un po riassumo un po queste cose che magari abbiamo già un po affrontato se se l'utente se il traffico vfr così come la vfr è tuned sulla frequenza hx delle zone di controllo che che attraversa ovviamente o che magari anche solo ci passa a fianco e si rende rende accessibile al traffico via via affare così anche riesce ad ascoltare i nostri blind calls delle nostre intenzioni e dunque c'è sicuramente una possibilità di comunicare e di coordinarsi se si è equipaggiati di transponder se questo viene acceso ovviamente quasi la barriera migliore che ci permette di identificare un traffico in secondo luogo ma non siamo qui noi a fare pulizia il rispetto delle delle distanze minime soprattutto nello spazio aereo eco chiaramente a noi è un punto che consideriamo ottenuto e dunque diamo per scontato che se io mi trovo in eco ed esco da una nuvola non trovo nessuno più vicino di una determinata distanza quella che definita in modo anche da avere il tempo di vederlo e questo chiaramente un po un messaggio in queste zone dove ci sono le rotte chiaramente non è che passiamo tutti i giorni dieci volte però se si rispettano queste distanze noi siamo in grado di di evitarvi una volta che una volta che usciamo il problema delle zone di volo a vela diciamo il problema queste distanze minime poi nelle zone di volo a vela è attualmente allo studio per vedere di coordinarci anche magari seguendo questi gaffor che se magari la zona è definita come difficolt o marginal non ci si aspetta che ci sia un volo a vela dunque di per sé si potrebbe considerarla chiusa e accessibile per il volo a iefar sono poi dei temi che sono in discussione per trovare diciamo un comune accordo che che consenta entrambe le cose la questa locandina che l'ufficio ero ha fatto alcuni anni fa che invitava il traffico a iefar a dirsi guarda che non sei da solo adesso vale quasi anche soprattutto per il volo via far a dire ok sono in giro in via far in eco in golf e potrei anche non essere da solo cioè potrebbe anche esserci un traffico a iefar che si muove all'interno di questo spazio la conoscenza comunque sempre più la conoscenza di dove si trovano questi punti queste questi avvicinamenti e queste rotte aiuta chiaramente a capire le zone hx le abbiamo le abbiamo già trattate e poi arriviamo a questa immagine dei due pc sette che si incontra cosa vogliamo dire con questi due pc sette che si incontra ad esempio delle performance o delle capacità attuali che hanno i nostri mezzi di navigazione sia i nostri dalla rega ma anche praticamente qualsiasi nuovo aereo di ultima generazione che ha delle performance incredibili noi abbiamo delle performance di 10 15 metri ma non solo noi dunque se noi se vengono pubblicate queste rotte o se sono inserite negli fms queste rotte il rischio vuole che poi qualcuno le usa anche quando non dovrebbe usare e di questi esempi sono 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 già sono già stati sono già venuti sono già venuti in norvegia dove in norvegia le hanno pubblicate perché è una procedura e farla e farla è messo nell'aip e dunque poi jepsen decodifica e tutti ce l'hanno dentro e la norsk ambulans che vola quegli elicotteri lungo un lfn in norvegia si è già incrociata a diverse volte con dei traffici civili diciamo non autorizzati non in coordinazione non in contatto e chiaramente la precisione di entrambi i traffici è talmente elevata che il rischio di scontrarsi è praticamente certo e dunque c'è un po questa questa siamo un po' da una parte all'altra da un lato pubblicare sarebbe meglio perché tutti avrebbero visioni di dove si trovano questi ma dall'altro c'è comunque un rischio sky guide riceve diceva 23 flight plan che che prendono prendono in considerazione la rotta lfn ogni mese e li rigetta e dunque il rischio che poi qualcuno ci si trovi sopra magari anche senza volerlo senza saperlo che non la può usare è considerato troppo rischioso dunque anche l'ufficio aereo che avrebbe l'obbligo di pubblicarle perché sono delle procedure aie a fare dunque vanno inserite nella ip non ha ancora veramente deciso preso la decisione di procedere perché bisogna comunque prendersi un certo tipo di responsabilità siamo siamo un po presi in contropiede non sappiamo anche noi bene ancora cosa sia veramente la la cosa migliore ma di principio attualmente pensiamo che sia meglio non pubblicare diciamo questo più o meno è quello che avevamo preparato da raccontarvi resta solo le vostre domande io sono a disposizione se c'è qualcosa che vi è sfuggito se avete anche altre domande inerenti a questi progetti vi lascio volentieri la parola sì Mario magari intervengo io sono ancora il marco dopo vedo che c'è il paolo che ha alzato la mano due domande per tutto grazie per un'interessantissima presentazione forse mi è sfuggito è una comunque una one man operation questa qui cioè sei su da solo come pilota siete due no siamo da soli nell'equipaggio Reagan diciamo non è cambiato siamo sempre in tre dunque un medico un soccorritore un pilota il nostro soccorritore però ha molte conoscenze per aiutare il pilota dunque praticamente sempre vola davanti soprattutto nell'IFR e vengono a fare le sessioni di simulatore sono in grado di leggere una checklist sono in grado di copiare una clearance mettere un transponder cambiare le frequenze sono abbastanza efficaci però single pile ok e la seconda domanda è un po' una procedura inventata dalla rega dopo con tempo ho sentito che hai già parlato della Norvegia ma è una procedura chiamiamola così abituale nell'ambito del soccorso o siamo un po' dei pionieri in questo ambito? siamo diciamo dei pionieri a livello di Europa in America era già presente quando noi abbiamo cominciato ci sono degli stati che hanno delle connessioni dei reticoli molto molto diciamo già in voga da diverso tempo l'ESBAS, l'UAS veniva prima da loro in Norvegia le hanno ma non sono RNP03 sono RNP1 dunque la precisione poi di usare l'ESBAS, l'LPV e l'RNP0.3 è stato veramente in Svizzera il primo questo elicottero il 109 SP è stato il primo elicottero civile certificato e ASA che era in grado di volare LPV Approach dunque da quel punto lì siamo veramente pionieri e speriamo di restarlo ancora perché effettivamente sta andando un po' più per le lunghe di quello che avevamo pensato. grazie vedo che c'è il Paolo che ha alzato la mano, a te Paolo ciao Marco sì allora pure dunque per volare MFR ci vuole ci vogliono le rotte d'accordo ci vuole l'equipaggio risposto a queste domande e ci vuole anche una diciamo ci vuole una diolica ma ma ci sono anche condizioni meteorologiche impegnative per i quali l'elicottero deve essere equipaggiato quindi penso soprattutto alle condizioni di ghiaccio visto che si fa dentro e fuori dalle mobili a bassa quota tipiche condizioni di ghiaccio invernali come sono equipaggiati gli elicotteri assolutamente questa è assolutamente una problematica con la quale siamo confrontati diciamo tutti i giorni anche non solo d'inverno beh il passo che la Rega sta facendo in questo senso è di aver chiesto a Leonardo, ad Agusta di attivarsi per costruire un elicottero o di equipaggiare l'elicottero che sarà il 169 come primo elicottero della sua categoria diciamo leggera con il sistema di antighiaccio completo che permetterà di volare nelle condizioni di ghiaccio questo però attualmente ha un po' di ritardo a causa del covid dovrebbe arrivare in operazione nel 23 in estate del 23 lo speriamo questo chiaramente permetterà poi alla Rega di non dico di volare sempre perché poi il temporale è il temporale quello che bisogna aspettare che passa e alcune condizioni saranno comunque troppo estreme attualmente invece quello che la Rega ha fatto è cercare di dettagliare un po' di più queste zone di ghiaccio in modo di avere delle previsioni un po' più precise perché chi conosce un po' il tema sa che sulle significant weather chart magari la zona comprende 100 miglia dove viene inserito che c'è un moderate icing magari above 7000 poi però se si va a vedere in maniera più dettagliata magari la cellula di ghiaccio si trova solo in una piccolissima porzione la Rega assieme a un sistema meteo ha sviluppato un po' un'applicazione che permette un po' stile il radar meteo che permette un po' di avere delle previsioni di ghiaccio sia nella quota e sia nel laterale molto più dettagliate dunque spesso ci si accorge che sì c'è una condizione di ghiaccio ma non è presente nella zona in cui io voglio volare oppure non è presente a quella quota e giocando con le quote giocando forse non è una parola giusta ma utilizzando le quote a disposizione utilizzando tutto quello che poi c'è a coté webcam stazioni meteo radar esperienza si riesce un po' a muoversi ma chiaramente il limite è quello l'elicottero non è certificato per volare nelle zone di ghiaccio e dunque bisogna evitarlo e se ci si trova dentro bisogna uscire al più presto possibile è la prima volta che sento è molto interessante questa questione che avete a disposizione un sistema per avere diciamo delle conoscenze in tempo reale delle zone di ghiaccio è una cosa esclusiva della Rega o servizio di Meteo Suisse non funziona? no non è un servizio di Meteo Suisse è un servizio a cui la Rega si è attivata assieme a un partner credo sia Meteo Test non è nemmeno Svizzera dove praticamente abbiamo chiesto di sviluppare qualcosa che già esisteva per le per le paleoliche è un sistema che già c'era in servizio per le paleoliche credo nel mare del nord in cui credo che in alcune condizioni devono fermarle perché se no rischiano di diciamo di disintegrarsi se dovessero far ghiaccio dunque partendo da quello si è provato a sviluppare il modello cioè abbiamo chiesto questa ditta di sviluppare il modello pagandola e hanno sviluppato questo modello provando ad adattarlo chiaramente attingendo a tutto quello che è a disposizione dunque immagini satellitari immagini radar umidità dimensione delle nuvole delle quantità di acqua temperatura e chi più ne metta più ne voglia e riescono con un modello a rappresentare diciamo il light il moderate e il severe ed è un'applicazione che utilizziamo o che testiamo per meglio dire adesso da diversi anni diciamo non è che andiamo a vedere se là dove dice che c'è ghiaccio c'è veramente però magari comunque in alcune situazioni di nebbia alta alcune zone vengono toccate e anche l'esercito che col super puma che è equipaggiato col diciamo con l'anti-icing o il di-icing si può permettersi di entrare dunque si ha un effettivo valutazione sì qui lo predice ed effettivamente c'è oppure qui non lo predice sulla carta generale svizzera darebbero ghiaccio sopra questa quota ma effettivamente l'applicazione riesce a o questo modello riesce a dire no in questo momento in questa quota non ce l'hai dunque stiamo facendo delle buone esperienze alcune anche non buone perché chiaramente come tutti i progetti ci sono delle cose che vanno poi adattate non è dal punto di vista forse certificativo ancora non ha superato forse tutti i test però lo utilizziamo già possiamo utilizzarlo e ci permette di avere dei buoni risultati se questo è accessibile attualmente no perché come detto non è un'applicazione certificata è un'applicazione che ha creato la rega un po' assieme all'esercito ma soprattutto la rega con i suoi diciamo sviluppando con un po' con i suoi ingegneri e soprattutto con questa ditta esterna e dunque attualmente non sarebbe neanche possibile dal punto di vista legale non darlo a disposizione a tutti perché vorrebbe dire prendersi la responsabilità in fin dei conti con che frequenza viene aggiornata? ogni tre ore praticamente segui gli step delle immagini satellitari che credo che inviano adesso non so quale dei satelliti non chiedermelo ma credo che noi ogni tre ore abbiamo come un'immagine radar è praticamente la stessa cosa io praticamente posso scegliere il download di una determinata ora ogni tre e poi lei mi fa un forecast per quasi 24 ore chiaramente ogni tre ore diventa più più preciso però se io devo partire al momento posso andare indietro di tre ore e quella è di regola dopo la confronto con le immagini radar magari con le immagini delle webcam con le immagini delle stazioni meteo che abbiamo piazzato un po' a destra e sinistra e mi faccio un'immagine più precisa e dico ok va bene questa cosa qui la posso la posso sostenere oppure no oppure ho questa variante oppure questa no oppure a nulla questo è un po' quello che riusciamo a fare poi tanto è veramente esperienza bisogna veramente volarci su queste rotte vedere un po' le varie condizioni e questo fa un po' la forza cioè non essere da un giorno a New York e un giorno a Tokyo ma noi vogliamo tutti i giorni tra Verzasca e Lugano e tra Lugano e Zurich questa rotta l'avremmo già volata 100 volte dopo un po' si comincia un po' a conoscere i venti e le situazioni ci sono altre domande per il Mario forse l'ultima da parte mia l'esercito ne approfitta fra virgolette o loro hanno ancora un qualche altro sistema e quindi fra virgolette non fanno capo a questo network non bisogna far male dei fratelli amici no diciamo che l'esercito attualmente è un po' sotto equipaggiato da questo punto di vista nel senso che io volo anche l'esercito seppur il Puma è forse l'unico elicottero attualmente in Svizzera che ha l'antighiaccio in questo momento l'esercito non vola sulla rotta alpina per un problema semplicemente di equipaggiamento perché non hanno una ridondanza sull'FMS dunque se un FMS si rompe non essendo nelle rotte diciamo minimum vector altitude hanno deciso che questo rischio non lo vogliono assumere invece sulle rotte diciamo di pianura no vi sono comunque dei voli abbastanza spesso capita però dipende anche un po' dal bisogno io quando sono ogni tanto nelle mie settimane lo utilizzo anche con l'esercito però principalmente è la rega che lo utilizzo anche perché siamo soprattutto interessati a questi avvicinamenti sugli ospedali dove spesso la rotta non la utilizziamo nemmeno arriviamo sopra le nuvole con la nebbia nella zona dell'ospedale e ci colleghiamo praticamente direttamente sulla procedura di avvicinamento e facciamo praticamente una salita e poi tutto il resto si svolge poi in via e far al di sopra della nebbia questo è probabilmente il target principale la nebbia a nord delle Alpi su e giù ok grazie vedo che c'è ancora una mano alzata la Giorgia sì solo una curiosità perché io volo dalle parti di Lucerna che è Ghisville e abbiamo proprio l'ospedale vicino al nostro circuito in quel caso lì perché ho visto ad esempio c'è la rotta da Lucerna che va verso Interlaken così penso che per l'avvicinamento a Sarnen comunque rimanete sempre su vie far perché ormai qua a Svizzera interna capita spesso che ci sono anche nebbie un po' basse che noi stiamo bellamente dentro a fare il circuito e un paio di volte infatti la rega sbuca fuori dalle nuvole proprio poco sopra l'ospedale il tempo per vederci a vicenda è veramente poco sì diciamo che grazie per la domanda Giorgio in questa zona è previsto semplicemente una rotta di attraversamento per collegare senza fare il giro diciamo dell'altopiano per collegare soprattutto l'ospedale di Lucerna alla base di Interlaken perché Interlaken riceverà assieme al Ticino uno dei due diciamo elicotteri equipaggiati con l'antighiaccio dunque si vuole cercare attorno a queste due basi Ticino e Interlaken di generare il massimo di collegamenti possibili per non dover fare il giro dell'economia per arrivare dall'altra parte della montagna ad Alpnach noi utilizziamo assieme all'esercito l'avvicinamento che loro hanno che praticamente si ingaggia nella zona del Lungersee in VFR però sopra ai 6.000 in VFR e si scende e più o meno la minima è a 2.000 piedi nella zona del laghetto tra Alpnach e Kegisville però di per sé attualmente lo utilizziamo solo quando Alpnach è attivo dunque in teoria il circuito a Kegisville dovrebbe essere la conoscenza che arriva giù qualcuno perché siete in contatto con la torre di Alpnach però anche l'esercito lo vuole usare quando poi anche la torre non è attiva però a quel punto lì si utilizzerà la frequenza di Alpnach però ecco quella sarà una coordinazione poi da discutere se lo utilizziamo anche senza i controlli se no in teoria il controllore di volo dovrebbe avvisare che guarda che sta arrivando giù qualcuno sì perché quello lì ormai nella zona abbiamo la situazione strana di avere due aeroporti uno civile uno militare sotto un'unica CTR e quindi quando Alpnach è attivo così siamo tutti agli ordini di militari quando non è attivo oramai ci coordiniamo un po' da soli ma infatti noi abbiamo il circuito sia sinistra a destra ma tendiamo sempre a usare il sinistra left right left hand perché quello a destra passa anche sopra l'autostrada è così che di solito è la linea di avvicinamento sia per l'ospedale sia per i militari o quando durante il weekend anche atterrano ad Alpnach ma voi quando Alpnach non è più attiva su che frequenza lavorate? sempre sulla stessa con le blind call ok dunque in teoria con questo non posso parlare per tutti anche il pilota rega che fa un avvicinamento all'ospedale di Sarnen attraversando una zona comunque HX dovrebbe non dico dovrebbe ma sicuramente sarà una buona cosa ricordarlo dovrebbe essere su quella frequenza e dovrebbe fare un blind calls quando è in avvicinamento l'avvicinamento strumentale come detto attualmente non è ancora utilizzabile senza dei TC ma sicuramente se lo utilizzeremo prerogativa sarà fare blind calls sulla frequenza della torre di altri ok sì perché so che anche noi quando arriviamo dal Lungern dal Brunich così abbiamo diciamo l'avvicinamento lungo che è quasi proprio sulla traiettoria dell'ospedale sì era solo questo grazie mille grazie a te bene siamo ancora alle domande c'è ancora qualcuno che vuole approfittare ok penso che non è il caso ancora una volta grazie mille Mario per la interessantissima presentazione concludiamo allora prima di salutarvi vi mostro solo l'introduzione di quanto vi ho anticipato prima purtroppo non l'abbiamo qui ma abbiamo visto la chiamiamola così trasposizione di tutte le violazioni degli spazi aerei avvenute in Svizzera mi sembra nell'ultimo anno vi dico sinceramente sembra una ragnatela quindi effettivamente il problema si pone adesso non solo perché rischieremo di trovarci un elicottero della Rega come abbiamo appena sentito ma anche in situazioni altrettanto pericolose quindi vi anticipo che il prossimo mese di febbraio l'ufficio federale pubblicherà dei video proprio per sensibilizzare ulteriormente i piloti per queste manovre che come vi ho detto in alcuni casi si sono rivelate estremamente pericolose questo è quanto vi dovevo detto ciò siamo penso più o meno in orario con quanto pianificato non mi resta che concludere ringraziandovi ancora tutti per l'attenzione ringrazio anche il Mark Robert che da da luceo non sta fungendo da regista grazie mille alla prossima e buona serata a tutti con ciò la seduta è terminata grazie a tutti